Salve ragazzi bentornati e ben ritrovati sul mio canale e un saluto dal vostro Franza allora oggi come ogni giorno vi porto un video tutorial su Monster Hunter World sulle facoltative di livello 4, in questo momento stiamo completando il livello 4 il titolo della missione si chiama sulle ali dell'incubo dovremo andare a caccia di 5 Raffinos io vorrei ricordare che se i miei video vi piacciono mi dovete lasciare un like iscrivervi al canale e attivare la campanella e vorrei ricordare a tutti quelli che mi seguono che sarò e sono in live tutti i giorni dalle 10.30 a mezzogiorno su Twitch insieme a mio fratello a giocare a Monster Hunter World se avete voglia venite a trovarmi in live salutatemi nella chat e se avete voglia di giocare con noi il posto è libero e si può tranquillamente giocare insieme detto questo non vi faccio perdere altro tempo vi lascio alla visione del video e ovviamente anche alla sigla eccoci qui eccoci qui ragazzi bentornati subito dopo la sigla io mi sono già recato presso la nostra amica assistente se non andate da lei o a una bacheca di missioni non potrete fare le missioni andate su nuova missione facoltative livello 4 sulle ali dell'incubo come vedrete dobbiamo uccidere 5 Raffinos la missione è molto semplice la accettate senza problemi scegliete il vostro accampamento ricordatevi come ogni volta prima di una missione andate dallo chef a mangiare e sistemate la cassa oggetti fate questi preparativi potrete tranquillamente partire per la missione eccoci qui al nostro campo base come tutte le missioni vi recate presso la vostra cassa di scorte vi prendete le scorte che vi spettano per diritto se avete bisogno di alzare la barra della resistenza vi mangiate una razione e in questo caso la mia barra è già al massimo non ne ho bisogno e fatto questo potrete partire Raffinos stanno in teoria giù 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 alla valle putrefatta ecco dove stavano quelli si perchè sono quelli ok vediamo se ho ragione dove devo andare alla valle putrefatta sono questi qui volanti eccoli qua vediamo si eccoli qua praticamente sono questi mostri volanti che io ho già ucciso vabbè andiamo avanti andiamo avanti vediamo se ne troviamo un altro paio qui sotto vediamo eccoli eccoli qua vado finire subito un altro fatto oh e c'ho la cassa piena immaggia andiamo di qua tornando sopra vediamo se ne escono altri due speriamo così non dobbiamo andare tanto in giro se no dobbiamo scendere ancora ragazzi addentrarci ancora di più nella valle eccoli dacciola lisciata no non sta qui ma questo è il quarto qualcuno mi ha avvelenato penso che sia stato il calice benefico continuate a girare più o meno per queste zone nella valle putrefatta questi sono i posti dove circolano i raffinos proviamo a scendere un po' più in giù nella valle putrefatta vediamo che cosa succede allora come vi è sempre detto non è tanto salutare stare qui giù nella valle putrefatta ma purtroppo non possiamo evitare perché comunque ancora non è ancora abbandonare ecco lì là sono lì su ok appena lì lo avete avvistato ok ragazzi ecco lì qua l'abbiamo preso con il colpo all'indietro allora io vi vorrei ricordare che per la missione di oggi è tutto se vi è piaciuta la missione lasciatemi un like iscrivetevi al canale e attivate la campanella tutti i giorni siamo in live dalle dieci e mezza a mezzogiorno su twitch io e mio fratello a giocare a Monster Hunter venite a salutarci in chat e se volete giocare con noi il posto è libero ci sta posto ovviamente vi lascio alla vostra caccia e ci vedremo al prossimo ci vedremo il prossimo video